I servizi sociali non centrano più con il sistema di prima accoglienza degli stranieri, così l'assessore Benedetti sul ruolo del Comune nella scelta dell'ASP Valle Savio di non gestire più l'accoglienza dei migranti a Cesena. A pesare sulla decisione il nuovo bando della Prefettura, figlio del decreto Salvini, che prevede un netto taglio dei costi di gestione delle strutture e che non si occupa più di tutto ciò che concerne l'integrazione degli stranieri in Italia, dai corsi di italiano fino ai tirocini lavorativi. Noi siamo un soggetto pubblico, abbiamo dipendenti pubblici, abbiamo una condizione gestionale diversa dalle realtà private e quindi con la nuova tariffa non è stato assolutamente ipotizzabile fare un business planning che potesse prevedere una sostenibilità economica della nuova accoglienza. I dirigenti dell'ASP hanno incontrato il Comune nei mesi scorsi mostrando le loro difficoltà e chiedendo all'amministrazione di farsi da tramite tra l'ente e la Prefettura per negoziare un accordo, trattativa che, se c'è stata, non ha portato ad alcun risultato. Il 31 marzo, data discadenza del bando, verrà quindi smantellato il centro di accoglienza che a Cesena ospita attualmente 110 persone. Queste andranno quindi in affidamento ad altre strutture del territorio che si sono aggiudicate la gara. Centri che probabilmente saranno ingestiti in gran parte da privati e che non prevederanno alcuna forma di assistenza o di integrazione che non riguardi la mera sopravvivenza delle persone, in attesa di poter ricevere, se e quando, un permesso di soggiorno che gli dia la possibilità di inserirsi nella nostra società. Noi speriamo di avere la possibilità di confrontarci con i tecnici della Prefettura stessa per poter accompagnare nel migliore dei modi il trasferimento dei ragazzi appena ci verranno dette le nuove destinazioni.